Cosa registrare? Cosa registrare? Cosa registrare? Cosa registrare? Ah ma in tutto ciò io ho Hearthstone Salve a tutti cari amici e benvenuti con me in questo nuovo video Oggi dopo circa due mesi siamo tornati su Hearthstone Per fare più schifo di prima E vai E direi che possiamo cominciare col nostro caro e vecchio deck Robo Paladin Che oltre a fare schifo non farà altro Allora siamo contro un caro e vecchio cacciatore E togliamo le carte pesantissime che mi sono finite in mano Sperando bene di averne di più leggere E più leggere ne ho avute ma non ho neanche un servitore Magnifico Oddio santo ecco che cominciamo Ah è un cacciatore Ora mi ricordo Allora L'unica cosa che posso fare perché devo cominciare il prima possibile è questo Cristallogia Ne aggiungo due No Ok Già va meglio ma Mi? Sempre un onore giocare contro i cacciatori che ogni volta picchiano Di focci e fanno male Ma io sono un uomo Tranquillo Oh che palle Che palle Che palle Qua c'è la gioca Dobbiamo giocare bene Forse sto per fare la giocata peggiore della mia vita Però va bene così Ah no Non mi conviene Bah buttiamoci un altro soldatino E a te la mossa Vediamo cosa Cosa può fare Tipo ci butta sette bestie perché questo fanno i cacciatori L'avevo detto millemila bestie mori Totalmente a caso Ma dobbiamo fare questo E butto due danni su di lui E poi robopattini cazzo Sì quanto è bello Quanto è bello E poi ce lo uccidiamo subito E picchiamo qua Si può fare Ah che palle Sempre quella Questa quantità ne infligge Precisi 3 A lei Vediamo se ci da uno da umana No Eh sì magari Non l'ha Era veramente il delirio Facciamo una mossa della quale ci pentiremo amaramente No Facciamo quest'altra mossa della quale ci pentiremo amaramente Però prego a lei Non riesce a farla quella merda Ah che palle Ma evoca quella belva La bestia di satana Ok Ok Evoca della napoletana No vabbè Queste sono le cose belle della vita Sorvegliante di bronzo A manetta Uno Due E Vai con lo scudo divino Cioè Evoca pure quell'altra Cosa Brutta Un 8-8 Un 8-8 eh Bella merda Un gul Piacere di conoscere la regina Garnassa Dio santo Cosa cazzo fa Ok Abbiamo un po' di problemi adesso Dissene Vai Vai Butta tutto Prego Segreti Segreti La serie Il Segreto Questo pure Mi attrae sessualmente Bustiamo lui Alla qua bar Bro C'è un 12-12 Dio santo che ho creato Ma se buttiamoci pure questa Eppure questa Io Che cazzo ha Sono leggermente morto Ma ci sto leggermente eh Con questo picchio uno di Raptor Mi picchio pure con l'altro No mi sa che questa è fatta cioè Picchio qua e poi che cazzo faccio Tutto qua Oddio però Eh no ma ha fatto Ma ha fatto 3-3 E poi butta il 2 Oh aspe Si è inculato da solo Aveva la partita in tasca Aveva la partita in tasca Eh Un altro segreto Che palle Però 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 Non posso attaccare nessuno di due Che bello Dio santo Però posso provare a fare così Partono i segreti Cazzo No No Cazzo mi ha fatto Cioè potevo fare un recupero assurdo Potevo fare un recupero assurdo Vabbè Sedness ragazzi Ogni tanto Ogni tanto Giunge Giunge la tristezza E non fa mai male Essere un po' tristi Nella vita Credo che posso concludere Quel video Se vi è piaciuto Lasciate un commento Un mi piace Se vuole tutte le informazioni Riguardo al gioco Al canale A me Mettete sempre l'ashtag Pagato paga poco Iscrivetevi al canale E ci vediamo alla prossima Biglietto pure costano assai Madonna salta Mettete sempre Mettete sempre Mettete sempre